Incontro con i diportisti oggi per decidere i nuovi scali, i nuovi attracchi presso Scalo Matteuzzi e La Frasca, due luoghi comunque importanti. Nessuno dei due. Noi facciamo un incontro oggi per decidere un proto turistico all'interno, non sulla spiaggia, non si consuma un ettaro di terreno, neanche un metro quadrato di costa, perché riteniamo che lo Scalo Matturi non è possibile in quanto ogni posto o barca costerebbe oltre 40.000 euro non disponibile per i diportisti locali. E questo lo sanno tutti. In secondo luogo noi non vogliamo farlo alla frasca per il semplice motivo che si andrebbe a sciupare territorio pregiato sotto ogni profilo, sia per quanto riguarda quello ambientale, sia quello archeologico e sia quello paesistico. Quello che viceversa vorremmo fare è, sui terreni dell'Enel, fare un porticciolo turistico di 600 posti barca, qual era quello dell'accordo fatto il 21 maggio dal precedente sindaco, 21 maggio cioè due giorni prima delle elezioni, che mi pare veramente un po' ridicolo, e invece noi facciamo un accordo adesso, dopo le elezioni, in modo tale che da qui a 5 anni i diportisti verificheranno se effettivamente i posti barca li abbiamo trovati o meno. Li troveremo sicuramente perché il porticciolo turistico lo faremo, lo faremo per 600 posti barca. Entroppo.